Allora Mileo, scorpacciati di gol e l'aspettata degli AFA Club, avete umiliato i griforileri, complirati? No, umiliati no, perché alla fine siamo tutti belli ragazzi, però siamo contenti, perché finalmente abbiamo dimostrato che squadra siamo, abbiamo dato il massimo, abbiamo dato tutto, abbiamo dato tutto e adesso abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutte le altre squadre, come comunque non si vedeva dalla classifica, dato che eravamo gli ultimi di tutti. Se li corrono in manico magari quel gol subito che vi poteva dare più punti no? Ma fa niente, fa niente, quando fai 13 con la nuova squadra sei contento, non ci pensi. Oggi, ieri in campo, ha bagnato sicuramente? Sì, 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 ha bagnato strepitoso, tra gol spettacolari di tacco, tunnel, gol mangiati, però è andato benissimo, è un po' strumento. Anche Leonardo, tu stesso, pure avete giocato bene, il nuovo debutto come è andato oggi? Per il nuovo debutto Rossi? Il nostro nuovo cannavaro. Anche lui ha giocato la discreta partita. Anche lui, anche il giacalone, è l'unico che non ha segnato perché è un elemento strano però è un elemento strano. Allora, la prossima è di Camus 69, con questo atteggiamento che avete acquistato oggi. Ci andiamo motivatissimi, motivatissimi, non c'è più per nessuno adesso. E Capitano Averna che farà? Capitano Averna, per ora, tra lui, tra la sua famiglia che ha avuto problemi, non è pervenuto ancora. Comunque lo aspettiamo sempre con Anzi. Ho capito, e bene, ti ringrazio, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.